Buongiorno, ecco qui oggi il grande evento, la consegna di quello che noi avevamo annunciato alla festa semplicemente meravigliosa, la consegna della carrozzina elettrica donata all'associazione Albimento Linti, un premio che abbiamo voluto dare a questa bellissima associazione che si sta spendendo molto per la cittadinanza, mettendo i fatti prima di ogni cosa. Ringrazio anche il mio team, ovvero composto principalmente dalla mia famiglia che ci ha permesso di fare ciò. Io ringrazio innanzitutto Luciano Amato, il dottore Luciano Amato per averti donato questa bellissima sede, la useremo con grande coscienza per tutti, intanto lo voglio dire, per la disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno e per le attività della nostra associazione, la destineremo proprio a quella. Ringrazio l'evento semplicemente meraviglioso, ringrazio l'UNAC che ci ha invitato a partecipare a questo evento e ringrazio Francesco Foggia che tramite di loro siamo riusciti ad avere questi bellissimi doni. Vi ringrazio veramente di cuore perché tante volte questi piccoli gesti ci fanno capire che stiamo facendo qualcosa di buono e ci vuole tante volte. Ringrazio anche tutto lo vostro staff, grazie. La colgo l'occasione innanzitutto di ringraziare perché è giusto ogni volta che c'è un evento andiamo spesso in giro per la città a chiedere aiuto per realizzare degli eventi importanti come quello che è stato fatto l'11 agosto presso la favolosa Piazza Mocarta, denominato semplicemente meraviglioso. Ecco, io oggi devo ringraziare la famiglia Amato, il dottor Luciano Amato, sua moglie, sua mamma per avere donato un importante dono all'associazione Pimentoniti. Di solito, come ho detto prima, chiediamo, ma è pure giusto che dobbiamo dimostrare i fatti e la famiglia Amato con il suo negozio Ortotecnica oggi lo ha dimostrato. Non è stato solo una propaganda sul palco, ha dimostrato con i fatti di donare una bellissima carrozzina elettrica che sicuramente ne farà buon uso l'associazione Pimentoniti. Io ringrazio Lunac per aver insieme a me ideato questo bellissimo evento e questo per noi sarà sempre e comunque, lo consideriamo sempre un punto di partenza e mai un punto d'arrivo. Il sociale si fa con i fatti e con i fatti abbiamo dimostrato in questa città che ci sono persone che vogliono bene anche ragazzi diversamente abili che sono gli attori principali della nostra grande realtà.